Buongiorno, benvenuti a tutti. Io sono Andressandra Chiuderi, come ha detto Chiara, e sono responsabile del CRM in Mondadori. Prima di iniziare subito la presentazione vi racconto un po' cosa è successo negli ultimi due anni in Mondadori, cioè perché un'azienda editoriale ha una direzione CRM. Due anni fa Mondadori ha creato la direzione digital all'interno della quale appunto siede il CRM. Il CRM si intende come cercare di raccogliere tutti i dati che sono oggi presenti in azienda per andare a utilizzarli sempre nel rispetto della privacy eccetera eccetera, per poi andare a creare dei prodotti editoriali che siano più vicini alle esigenze del consumatore. Proprio per questo quindi mentre, perché siede all'interno della direzione digital? Perché mentre per produrre un giornale, una rivista o un libro eccetera c'è una catena proprio produttiva, lunga, complessa, nella quale occorrono delle economie di scala, di grosso player e così via. Per quanto riguarda i contenuti di tipo digitale, sappiamo tutti benissimo che due ragazzini particolarmente vispi possono creare un prodotto digitale senza aver bisogno di una grossa infrastruttura, ma semplicemente riuscendo a trovare quell'idea che ti va a incontrare gli interessi e sposa gli interessi di alcuni o forse milioni in alcuni casi di consumatori, clienti, chiamavano come vogliamo. Quindi perché all'interno della direzione digital nasce la funzione CRM? Nasce proprio con l'idea di dire se io voglio essere sul mercato anche nel mondo digital e quindi nel mondo dei contenuti ma anche nel mondo dell'advertising e della comunicazione digitale io devo avere quel qualcosa in più che i miei concorrenti non hanno. Devo riuscire a capire come fare a differenziarmi sul mercato dai miei concorrenti e questo lo posso fare solo sapendo che cosa vogliono i miei clienti. Quindi questo è un po' il perché io sono stata assunta da Mondadori due anni fa, esattamente due anni fa. Questa chiacchierata vorrei raccontarvi un po', vabbè parto dalla fine, cioè vi racconterò dove vogliamo arrivare, il perché siamo qua, soprattutto perché in questa sede dove si parla di big data. Però mi piace quindi partire dalla fine dire subito l'assassino ma poi fare un passo indietro e dire quanto è lunga la strada diciamo per arrivare lì, perché poi abbiamo parlato, abbiamo sentito cose molto interessanti oggi su tutto quello che i big data possono fare, si possono fare, che si vorrebbero fare. Poi però ricordiamoci sempre che per arrivare lì il percorso è lungo, quindi volevo condividere con voi questi aspetti. Questa è l'agenda, passiamo direttamente al contesto. Mondadori è un'azienda che penso tutti conosciate, sicuramente per la parte libri, forse anche per la parte riviste, è un'azienda che ha una ricchezza di contenuti e di sfaccettature enorme, perché si passa dalla radio a tutto quello che avviene nei negozi, alle case editrici, ai periodici, tutto il mondo della digital. La possibilità Mondadori, forse questo non è altrettanto noto, gestisce oltre che gli abbonamenti alle proprie riviste, gestisce anche tutti gli abbonamenti di riviste concorrenti o non del settore, gestisce l'abbonamento per citarne uno a famiglia cristiana, che non è sicuramente del gruppo Mondadori. Quindi nei negozi, se passate davanti ai negozi Mondadori, spesso e volentieri le vetrine sono completamente tappezzate di prodotti della concorrenza. Quindi in realtà è un'azienda che raccoglie o che potrebbe potenzialmente raccogliere un sacco di informazioni su gli interessi dei clienti e quindi molto appetibile da un punto di vista di chi vuole fare profilazione, analisi e conseguentemente CRM. Perché e quindi dove vogliamo arrivare? Un po' l'ho già detto all'inizio, il percorso che ci siamo immaginati è questo. Partiamo da una raccolta di dati che sono i dati strutturati, sicuramente tradizionali e come vi potete immaginare dalla slide precedente sono decisamente molti e su tantissimi aspetti della vita comune. Prima di lavorare in Mondadori lavoravo nella società di telecomunicazioni e in quel caso lì la ricchezza di dati è enorme ma è totalmente concentrata sull'utilizzo del cellulare. Quindi io so esattamente che il mio cliente tal dei tali telefona alla tal ora e si trova nella tal zona, non ho confermo la minima idea per fortuna di che cosa sta dicendo al telefono, però finisce lì. Io posso immaginare che se telefona da cortina abbia uno stile di vita, un interesse, una cosa diversa da qualcuno che telefona da Firenze, ma non necessariamente questa è una mia deduzione, ma non è una cosa che compra una determinata rivista si caratterizza, chi compra determinata tecnologia si caratterizza, chi ha un abbonamento si caratterizza, chi ascolta e si registra sul sito della radio ha un altro quindi la possibilità di capire meglio il cliente è sicuramente maggiore dal mio punto di vista sicuramente maggiore in un'azienda editoriale che è così sfaccettata sulla sfera degli interessi dei possibili consumatori rispetto a quella che può essere una società di telecomunicazioni che invece ha moltissimi dati ma tutti dello stesso tipo. Quindi fatta questa precisazione diciamo si parte dai dati strutturati, quindi cosa comprano, dove lo comprano, quando lo comprano e tutto quello che sappiamo essere ormai considerato un po' demodema in realtà ancora di grandissimo interesse. Abbiamo i dati sulla navigazione web fino a quando ce li faranno tracciare e poi abbiamo quello che abbiamo sentito anche oggi, i dati del social. Da tutto questo possiamo trarre delle considerazioni attraverso degli strumenti di mining, di analisi, di business intelligence quello che riusciamo a fare e trarre appunto degli insight, delle conoscenze. Grazie a questo insight possiamo cominciare a personalizzare e personalizzare vuol dire tante cose, vuol dire che appunto abbiamo i contenuti che non sono uguali per tutti ma anche la pubblicità non sarà uguale per tutti cioè non sarà mostrata a tutti la stessa pubblicità e infine per quanto riguarda l'offerta quindi io andrò a proporre a determinate persone determinati prodotti in funzione di quello che ho fatto o ho osservato del suo comportamento fino ad oggi. Questo che cosa ci porta? Ci porta al fatto che il consumatore o il cliente, come lo vogliamo chiamare, ci vedrà diversi ci riusciremo a differenziare dalla concorrenza per il discorso che dicevo prima. Saremo più pertinenti quindi andremo a mostrare una pubblicità che in qualche modo rientra nella sfera delle cose che quella persona magari potrebbe comprare. Andremo a cogliere il momento opportuno se io sono una persona che guarda la mail mentre sono in metropolitana perché adesso è coperta e quindi intanto che vado al lavoro sono lì che mi guardo la mail, mi arriva lì un'offerta di una cosa che è inerente ai miei interessi, io sono lì, mi annoio eccetera magari la compro. Se la mail mi arriva due ore dopo quando sono in ufficio non la leggo neanche e probabilmente finisce sotto una pila così di mail e la scarto. L'altra cosa importante è che si deve riuscire, vorremmo riuscire a trovare il modo di creare una forma di identificazione fra chi legge i nostri contenuti o usufruisce dei nostri prodotti se vogliamo e il prodotto stesso perché poi questo genera chiaramente quel senso appunto di identificazione e poi crea passaparola. E quindi vorremmo alla fin fine di tutto questo discorso aumentare la rilevanza di quello per la singola persona di quello che noi proponiamo. Naturalmente non siamo una onlus e quindi tutto questo è molto bello, va bene perché il consumatore magari lo scocciamo un po' meno e gli proponiamo cose un po' più interessanti ma chiaramente ci permette di aumentare i ricavi. Ci permette di aumentare i ricavi in termini di pagine viste perché se io trovo dei contenuti che sono più vicini ai miei interessi ci sto più tempo, passo parola ci sono più utenti, offro dei servizi personalizzati o più iscritti, aumenta il click through nella pubblicità e se la comunicazione è fatta bene a livello di DEM, quindi di informazioni personalizzate, ovviamente aumentano gli ordini. I principali assi dove questo si articola sono ovviamente quello editoriale, la parte della pubblicità e la parte della comunicazione. Una cosa interessante è che appunto grazie agli analytics noi possiamo andare a capire due cose, possiamo andare a capire intanto quali contenuti piacciono di più e quali piacciono di meno, senza andare a fare una valutazione di chi crea il contenuto ma banalmente capire che una determinata persona è più affine a certi tipi di contenuti piuttosto che altri e conseguentemente andare a modellare per esempio la home page di un sito con contenuti differenti in funzione di quanto, di che cosa ha fatto precedentemente. Oppure andare a lavorare sulla profondità del sito, quindi se una persona è molto interessata al canale cucina e all'interno della cucina la parte vegetariana, io andrò a mettere in evidenza la parte vegetariana invece di fare magari un annidamento successivo. Altra cosa è la frequenza di ritorno oppure l'ora nella quale la persona si collega. Se una persona ha una frequenza di ritorno alta tenderò a modificare i contenuti più spesso, in altri casi potrei lasciarli su più tempo perché la persona ha comunque un tempo di visita più basso. Per l'advertising e quindi per la pubblicità naturalmente si apre un mondo. Io potrei andare a capire a seconda del comportamento sul sito, a seconda delle ore nelle quali si collegano eccetera eccetera, che tipo di audience ho. Se poi lavoro sul riconoscimento di chi sta navigando posso sapere se è un uomo o una donna e quindi mostrare la pubblicità in funzione di quello che ha fatto precedentemente. Se io riconosco l'utente che va sul sito Donna Moderna e vedo che ha comprato recentemente sul mio sito online piuttosto che nelle librerie dei libri sulla mamma, la gravidanza, la mamma, l'allattamento, i primi anni, sicuramente è più in target questa persona per una pubblicità della chicco piuttosto che il viaggio dei tuoi sogni alle Maldive. Sono tutte cose che io riesco a fare e quindi riesco come azienda a proporre ai miei inserzionisti delle fasce diciamo di clienti più interessati e conseguentemente a dei prezzi migliori. Altro spunto interessante è tutto quello che deriva dalla geolocalizzazione. Ormai quasi tutti, molte delle nostre property hanno un'applicazione mobile, sapere che io mi trovo in un determinato posto, sempre ammesso che il cliente abbia accettato di fornire questa informazione, apre uno spazio a, da un lato di nuovo della pubblicità mirata, perché sono in quel posto lì e quindi sai che oggi c'è l'offerta da H&M, piuttosto che il fatto di poterti fornire a livello di newsletter delle informazioni che riguardano la città dove stai. A me cosa importa se mi mandi una newsletter che mi dice che a Taormina c'è una roba fantastica. Io sono a Milano, magari mi girano anche un po' perché qui è brutto e là è bello, perché mi mandi le informazioni di Taormina? Mandami quelle di Milano. Questo è un po' ultimo, l'ho messo volutamente per ultimo perché se vogliamo una cosa meno innovativa è proprio quello di andare a fare una comunicazione personalizzata su quello che effettivamente interessa le persone. Non Dem a pioggia a tutti racconto che esiste la tal cosa, ma a seconda di quello che io ho capito di te ti propongo il prodotto più appropriato. Bene, questo è dove vogliamo arrivare. Questo è da dove siamo partiti due anni fa. Ovvero due anni fa avevamo tutte quelle cose che c'erano nella prima slide e nella seconda slide, avevano un proprio database, ognuno un suo silos, lo stesso cliente era replicato e ne volte, magari lo stesso cliente riceveva la comunicazione lo stesso giorno che c'era un'offerta in libreria, ma lo stesso libro lo poteva comprare anche su internet, magari in prezzo più basso. Diciamo che era la classica situazione nella quale ognuno per sedi o per tutti. Abbiamo cominciato con una certa fatica, ma insomma a fare prima una mappatura di questi database e poi finalmente siamo riusciti nel giro di un paio d'anni a portare tutto in un unico repository. All'interno di questo repository oggi ci sono circa 8 milioni e 7 di clienti che continuano ovviamente ad essere alimentati, è il classico data warehouse, non sto raccontando niente di nuovo, in cui sono state messe a punto delle procedure di riconoscimento e identificazione che ci permettono di capire se la stessa persona anche se ha dato informazioni non 100% coincidenti, se si tratta della stessa persona. Quindi se Alessandra Chiuderi ha dato l'indirizzo di Segrate perché ha dato l'indirizzo dell'ufficio, ma ha dato anche l'indirizzo di casa e quindi sono due Alessandra Chiuderi con due indirizzi diversi, ma magari lo stesso indirizzo mail si conclude che questa è la stessa persona e quindi si riuniscono nella stessa persona tutte le informazioni derivanti dalla sua storia con tutti i punti di contatto di mandatori. Di questi 8 milioni e 7 di clienti abbiamo circa 4 milioni di email perché molte informazioni derivano dagli abbonamenti in cui non viene richiesta la mail come obbligatoria, poi sono dati storici, quindi non tutti hanno la mail registrata. Le aree di business, le principali aree di business sono 9, in realtà ognuno di questi pallini è un'area di business, ma insomma le principali sono queste. Abbiamo cominciato ad effettuare tutta una serie di colorazioni di questo database andando a suddividerli in classi di spesa, andando a suddividerli in predisposizione tecnologica perché grazie al fatto che noi scriviamo a questi clienti, i clienti a volte leggono quello che gli scriviamo, abbiamo una possibilità di sapere che tipo di browser usano, possiamo sapere se hanno o no uno smartphone, possiamo anche fare delle valutazioni sulla base dell'indirizzo mail che hanno fornito, uno che ha gmail ha un profilo leggermente diverso da uno che ha libero, poi con gli errori del caso, ma diciamo sono tutte una serie di colorazioni che abbiamo messo in pista. Una delle cose anche interessanti è la fascia di presenza online, ci sono quelli che si collegano prima di andare in ufficio, quelli che si collegano durante l'ora di ufficio, dopo cena, insomma le abbiamo divisi in cinque fasce, questo ci permette per esempio di ottimizzare quando scrivere. I livelli di attenzione, cioè quanto spesso aprono le cose che gli mandiamo? Mai. Poco, abbastanza, tanto sempre, sostanzialmente sono queste. E poi sulla base di tutti i dati che vi ho mostrato prima che possono derivare da tutti i business, abbiamo fatto dei profili di interesse, quindi se una persona è abbonata a un determinato tipo di testata, diciamo ha un certo tipo di interesse, alla fine facendo una sorta di media pesata dei vari business che abbiamo, riusciamo a profilare i nostri utenti secondo 25 categorie. L'architettura. L'architettura, questa è un'altra delle cose che sono state realizzate in questi due anni, quindi abbiamo da un lato, sulla sinistra vedete tutti quelli che erano i pallini dall'altra parte, qui sono delle scatole gialle, ma insomma sempre quello è, abbiamo radunato tutte le informazioni che erano presenti a nostra disposizione e le abbiamo riportate all'interno di un database clienti. A questo abbiamo attaccato uno strumento di customer di analytics, stiamo finendo di attaccare uno strumento di reporting, quindi per la business intelligence a livello aziendale e abbiamo uno strumento, abbiamo acquistato, predisposto, eccetera eccetera, uno strumento di gestione delle campagne, quindi uno strumento di campaign management che ci permette di gestire attraverso uno strato unico e quindi di andare a gestire quelli che potrebbero essere dei potenziali conflitti, le comunicazioni verso il cliente. Mi spiego meglio, se lo stesso giorno un business ha bisogno di mandare un'informazione sul fatto che è uscito il nuovo libro di Paolo Giordano e poi contestualmente invece vogliamo andare a fare una comunicazione sull'abbonamento a Grazia. Queste due cose andrebbero in conflitto su alcuni utenti, per quegli utenti si può implementare una regola che dice bene questo utente qui gli mandi quella, quest'altro gli mandi quell'altro oppure delle regole sull'opportunità piuttosto che sul ritorno dell'investimento e così via. Tutto questo viene fatto, può essere fatto solo se tutta l'azienda usa questo strumento e si introduce diciamo una sorta di vigile che prima uno che conta e poi un vigile che dice oggi passi tu, domani passa lui. Siamo quasi a compimento, manca lo strumento di reporting che stiamo per acquistare e il resto più o meno è fatto. Naturalmente non è stato per niente facile tutto questo. Abbiamo dovuto affrontare una serie di sfide che io ho riassunto in tre blocchi. Il primo e se vogliamo forse la più facile da un certo punto di vista è la sfida tecnologica, cioè oggettivamente fare tutto questo ha comportato una serie di investimenti, codice scritto, capire come fare, risolvere problemi e così via. Ma la tecnologia non è mai un problema in questi fatti, è solo una delle cose che si deve mettere sul piatto. La seconda è il tema delle competenze, cioè oggettivamente non è facile riuscire a trovare delle competenze, sicuramente servono delle competenze di analytics, molto più difficile trovare competenze sul mondo web, cioè sul mondo web ci sono tanti che parlano di che cosa si può fare dal mondo dei dati di navigazione web, pochi che lo fanno davvero. Nessuno, almeno per adesso, non siamo riusciti a trovare che è disposto a venire a lavorare, se lo fanno lo fanno in proprio in delle aziende diciamo loro, quindi si prestano come consulenti ma non sono interessati a essere assunti da una grande azienda. Ultimo, last but not least, decisamente la gestione del cambiamento. In tutte le aziende, anche le più moderne, il cambiamento è sempre un problema. In un'azienda che ha 100 anni e che per 100 anni ha lavorato, l'80% del fatturato di mondadori viene da clienti anonimi, cioè viene fatto tramite l'acquisto di un libro in libreria, al GGO, dove che capita, oppure di un periodico in ericola. Quindi un'azienda che ha il suo core business basato sulla produzione di un oggetto che è pensato da qualcuno e diffuso a tanti, deve fare proprio un cambiamento a 180 gradi perché deve dire io faccio qualcosa sulla base di quello che piace alle persone, che è molto diverso, è completamente diverso, è proprio un'inversione di prospettiva. E quindi il riuscire a, se vogliamo, portare l'azienda che è decisamente molto determinata a fare questo passo, ma un conto alla testa, un conto alla pancia, riuscire a farlo anche poi succedere, ha richiesto effettivamente tanta energia, grande supporto da parte, diciamo, se vogliamo, del management, ovviamente poi nel day by day ti trovi al fatto che, non so, esce il concorso che fa 5.000 iscritti ma il consenso privacy non ti permette di usare i dati. E uno dice, ma come? Cosa ne faccio io adesso di questi 5.000 iscritti? Ecco, questa è un po' la situazione dove siamo. Diciamo che da un po' di tempo a questa parte le cose stanno prendendo sicuramente piede, però la gestione del cambiamento, se uno deve affrontare un progetto di questo tipo, secondo me è uno degli aspetti più peculiari su cui fare tanta tanta attenzione, tanta quanta la tecnologia, tanta quanta le competenze. Perché alla fine tecnologie e competenze in un modo o in un altro le compri. La voglia di cambiare? No. Negli ultimi due minuti che mi rimangono vi porto anche qualche risultato, perché magari se no sembrano solo chiacchiere. Allora, una serie di cose che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un approfondimento editoriale per andare a capire chi sono i nostri utenti, chi sono quelli che si interessano di cucina, perché appunto Donna Moderna vuole rivedere il suo canale cucina e quindi abbiamo supportato la parte di Donna Moderna, sto parlando di Donna Moderna.com, abbiamo supportato la parte di Donna Moderna.com con tutta una serie di informazioni sulle persone che si interessano ai temi di cucina, grazie alle informazioni che noi abbiamo raccolto, quelle di cui parlavo prima. Abbiamo anche cominciato ad analizzare, come vi dicevo, chi sono i nostri utenti che hanno uno smartphone o un tablet, cioè come lo facciamo ovviamente dallo user agent che viene mostrato nel momento in cui viene aperta una mail. Quando io apro una mail, scusate, quando apro una mail viene tracciato il mezzo attraverso il quale io apro quella mail. Siccome Mondadori sta producendo molte applicazioni, come vi dicevo prima, abbiamo scelto la strada di non andare a comunicare l'esistenza di queste applicazioni a tutti i 4 milioni o se vogliamo ai 2 fischi a milioni di consensati, ma ovviamente solo a quelli per i quali la cosa era rilevante. Le applicazioni si scaricano ovviamente dall'Apple Store, Apple non ti dice chi ha scaricato l'applicazione, ma ti dice solo quanti ne hai scaricati, però è abbastanza interessante, sia nel caso di Eugenius, che è una cosa più recente, sia nell'applicazione di Cucina No Problem, vedete che è stata fatta per Eugenius una dem l'8 di luglio, e vedete che cosa è successo ai download giornalieri. Siamo passati da 200 a 745, quindi oggettivamente con dei tassi di apertura molto molto interessanti. Non sapremo mai se quei 700 facevano parte di quelli a cui abbiamo inviato la mail, però diciamo che il sospetto c'è. Lo stesso è successo per Cucina No Problem, Cucina No Problem invece è una cosa fatta a febbraio, abbiamo inviato, è stata quella che poi ci ha dato un po' il via a questo tipo di attività, ci ha permesso di, vedete anche in questo caso abbiamo avuto, nel 13, il 14 abbiamo fatto due invii su clienti molto profilati, e questo è stato il risultato. Quindi i download giornalieri sono saliti, adesso non c'è la scala, ma insomma a prescindere da quale sia la scala si vede chiaramente il salto in occasione dell'invio. Analogamente abbiamo fatto un lavoro invece sulle persone che per motivi vari ritenevamo avessero un interesse per la cucina e le diete, abbiamo inviato delle dem su specifico questo speciale diete e abbiamo avuto un tasso di apertura decisamente molto molto alto, cioè 56,22 per un'azienda, diciamo, per delle comunicazioni editoriali è molto alto. Altra cosa è quando ti iscrive una banca, quando ti iscrive il tuo operatore di telefonia mobile, perché chiaramente sono cose diverse, le informazioni editoriali, questo evidentemente era un target molto ben profilato. Sono fuori tempo massimo, quindi vi faccio ancora vedere due attività. Questa è quella fatta per Boll, quindi il sito di vendita di libri online, in cui prima dell'esistenza del database clienti, degli analytics e quant'altro, venivano gestiti in maniera analoga a tutti i clienti, quindi a tutti si mandava la stessa comunicazione, sia a quelli che stavano nel pallino verde in basso, che sono quelli che sono più redditizi, sia a quelli che stavano nel pallino rosso in alto, che sono quelli che lo sono meno. Secondo determinati criteri. Ovviamente una volta identificati queste clusterizzazioni abbiamo detto no, i primi li fidelizziamo anche perché hanno un potere di spesa più alto, quindi magari non mi gioco il buono sconto su quelli che sono più altospendenti, e invece vado un po' più aggressivo, nei limiti della legge Levi, su quelli che sono invece da più tempo indietro, non sono più nostri clienti così affezionati, eccetera. Il risultato è che da quando abbiamo cominciato a fare questo tipo di attività, il 50% degli ordini che sono entrati dopo la DEM, venivano da clienti che era un po' che non li sentivamo, e lo scontrino medio invece dei clienti del cluster verdi si è aumentato, quindi siamo riusciti in qualche modo a riattivare alcuni clienti e ahimè far spendere di più agli altri. Ecco, questa qua è un'altra attività molto carina, ci sono molto affezionata perché mi piace proprio tanto, abbiamo identificato alcuni clienti e abbiamo regalato loro una copia libraria, quindi una copia di un libro che non era ancora uscito, per farglielo leggere, naturalmente spiegandogli l'iniziativa, quindi dicendo che questo è un libro che ancora non troverete in libreria, l'abbiamo scelto per te perché riteniamo che sia in linea con i tuoi gusti, eccetera, eccetera. Numeri piccolissimi, come vedete 40-50 copie in tutto, la barra grigia indica quante copie sono state inviate, le barre con i toni di rosso indicano gli ordini provenienti da quei clienti, 15 giorni dopo il regalo, 30-45-60. Allora, vediamo che alcuni titoli, addirittura alcuni autori, hanno scatenato una voglia di comprare il libro superiore al numero di copie inviate, cioè io ho inviato per Gremion, ho mandato 40 copie e nel giro di due mesi ne ho avuti quasi 60 di ordini. Quindi quei 40 clienti che hanno ricevuto quelle copie hanno fatto mediamente un ordine e mezzo a testa. Quindi decisamente un'azione che paga, perché i clienti si sentono ovviamente coccolati, anche questa è la scoperta dell'acqua calda. Però è una cosa che non era mai stata fatta, perché in questo caso possiamo giocare il ruolo di, se vuoi, di editore, di rivenditore, nello stesso contesto. Questo è un esempio di che cosa si può fare osservando quando la gente apre le mail e quindi quando le scrivi. Se guardi quando, se tu spedisci in determinate fasce orarie, ma vedi che le persone aprono in altre fasce orarie, si può ottimizzare l'invio. E quindi da qui l'idea, da questa osservazione, è l'idea di andare a segmentare le persone per fascia di presenza online. Questo è dove siamo oggi, più o meno. Che cosa faremo da domani? Andremo avanti nell'analisi del comportamento online. cercheremo di arricchire i profili dei clienti con i loro dati offline e con i loro dati online. Cercheremo anche di trovare il modo di lavorare su quelli che non sono ancora clienti, cioè quelli che non conosciamo, che non sappiamo chi sono. Quelli che navigano anonimamente sui siti, che sono la maggioranza, quelli che vanno in edicola, quelli che vanno in libreria. e naturalmente lavoreremo in stretto contatto con la concessionaria di pubblicità, che per il mondo digital è la parte, se vogliamo, portante per quanto riguarda i ricavi. Chiedo scusa per la lungaggine. Vi ringrazio.